Sabato Ora ho un giorno di vita, quasi un giorno intero. Sono arrivata ieri, almeno così mi sembra. E credo sia così, perché se è esistito un giorno prima di ieri, quando quel giorno c'era non c'ero io, altrimenti me ne ricorderei. Naturalmente è possibile che quel giorno ci sia stato e che io non me ne sia accorta. Benissimo, da ora in poi starò molto attenta e se mai ci saranno dei giorni prima di ieri, ne prenderò nota. La cosa migliore sarà cominciare bene e fare in modo che le mie memorie non si presentino confuse, perché l'istinto mi dice che saranno proprio questi i particolari ai quali un giorno gli storici daranno peso. Infatti ho la sensazione di essere un esperimento, ed è esattamente come un esperimento che mi sembra di sentirmi. Sarebbe impossibile per chiunque sentirsi un esperimento più di quanto mi ci senta io. Così sto per arrivare alla conclusione che è proprio questo quello che sono, un esperimento. Un semplice esperimento. Un semplice esperimento. Nient'altro di più. Dunque, se sono un esperimento, è a me che quell'esperimento si riduce. No, non credo. Credo che il resto ne sia parte. Io ne sono la parte più importante, ma penso che tutto il resto abbia il suo peso. Forse la mia posizione è sicura. Oppure è mio compito difenderla e averne cura. Probabilmente dovrò averne cura. L'istinto mi dice che l'attenzione eterna è il prezzo della supremazia. Per essere giovane come sono, quest'ultima frase mi pare molto intelligente. Oggi ogni cosa ha un aspetto migliore di ieri. Nella fretta di mettere un termine al giorno di ieri, le montagne erano state abbandonate in uno stato deplorevolmente lacero ed era tale la quantità di resti e di macerie che ricopriva una parte dei bassopiani che l'immagine era piuttosto desolante. Opere d'arte di grande nobiltà e bellezza non dovrebbero conoscere la fretta e non c'è dubbio che questo nuovo mondo è un'opera maestosamente nobile e bella. Senza alcun dubbio è inoltre stupendamente prossimo alla perfezione per quanto sia da così poco che esiste. In certi punti ci sono troppe stelle e troppo poche in altri ma sono sicura che a questo si può porre un rimedio in un attimo. La notte scorsa la luna si è liberata è scivolata verso il basso ed è uscita dal disegno. Una perdita gravissima ma il solo pensarsi mi si spezza il cuore. Non esistono un ornamento e una decorazione che possano reggere al suo confronto tanto è bella e rifinita con cura. La si sarebbe dovuta fissare meglio e soltanto potessimo riaverla ma naturalmente nessuno sa dove sia andata a finire. Inoltre la persona che la troverà chiunque sia la nasconderà. Non lo so perché lo farai anch'io. Penso che sarei capace di essere onesta nei confronti di tutto il resto ma ormai ho cominciato a rendermi conto che la vena più profonda della mia natura è l'amore per ciò che è bello. Una vera passione sarebbe pericoloso affidarmi la luna di qualcun altro nel caso che quest'ultimo non sapesse che la persona che ne è in possesso sono io. Potrei rinunciare a una luna che avessi trovato alla luce del giorno perché avrei paura che qualcuno mi avesse vista ma nel caso la trovassi nel buio sono certa che mi inventerei una qualche scusa per evitare persino di parlarne perché adoro le lune sono così graziose così romantiche come mi piacerebbe che ce ne fossero cinque o sei non andrai mai a letto non mi stancherai mai di starne sdraiata sulla riva muschiosa con lo sguardo rivolto verso di loro. Anche le stelle sono belle ne vorrei un paio e me le metterei nei capelli ma ho la sensazione che non riuscirò mai ad averle mi sorprenderebbe scoprire quanto siano lontane perché non sembrano così distanti. Quando la notte scorsa per la prima volta sono apparse ho provato a tirarne giù qualcuna con un bastone ma con mia grande sorpresa non sono riuscita a toccarle poi ho provato con delle zolle di terra ci ho provato e riprovato tanto da restare alla fine senza forze ma non sono riuscita a colpirne una mai il fatto è che sono mancina e non mi riesce di tirare come si deve anche quando prendevo per bene di mira la stella che volevo colpire colpivo l'altra sebbene qualche volta ci sia arrivata vicinissima perché ho visto la macchia nera della zolla penetrare nelle aureole dorate delle stelle credo 40 o 50 volte e mancarne per un'inezia se solo fossi riuscita a resistere appena un po' di più una forse sarei riuscita a colpirla così per un po' pianto reazione naturale credo per una della mia età poi dopo essermi riposata ho preso un cestino e mi sono incamminata alla volta di un posto sul bordo estremo del cerchio là dove le stelle erano vicine alla terra e dove avrei potuto raccoglierle con le mani e sarebbe stato molto meglio così perché in quel modo avrei potuto coglierle amorevolmente senza spezzarle ma era più lontano di quanto pensassi e alla fine dovetti rinunciarvi ero stanca al punto da non riuscire a trascinarmi un passo più in là e avevo un gran male ai piedi non riuscii a ritornare a casa era molto molto lontana e cominciava a fare freddo ma trovai delle tigre e mi accoccolai fra di loro le tigre erano deliziosamente comode e il loro alito dolce e piacevole perché si nutrono di fragole non avevo mai visto una tigre prima di allora ma in un attimo le riconobbi dalle strisce se riuscisse a procurarmi una di quelle pelli ne farei un grazioso mantello oggi cominciò a capire meglio che cose siano le distanze il desiderio di impossessarmi di tutto ciò che fosse carino era così forte che come stordita allungavo la mano per afferrarlo e a volte era troppo lontano a volte invece quando era mezzo palmo da me avevo la sensazione che fosse a un palmo e ahimè tra noi c'erano anche delle spine mi sono presa una bella lezione e ho anche ricavato un assioma tutto di testa mia il primo assioma in assoluto dopo che la spina ha lasciato il suo segno l'esperimento la teme penso che per essere giovane come sono sia un gran bella assioma ieri pomeriggio da lontano ho seguito l'altro esperimento volevo capire a che cosa potesse servire ma non ci sono riuscita credo sia un uomo non ne avevo mai visto uno ma quell'essere gli assomigliava verso di lui mi rendo conto di provare una curiosità più forte di quella che provo nei confronti di qualsiasi altro rettile ammesso che sia un rettile e io credo che lo sia infatti ha i capelli arruffati e gli occhi azzurri e sembra un rettile non ha fianchi ha una forma fusolata come quella di una carota quando sta in piedi si allarga come un argano per quello penso sia un rettile anche se è possibile che sia una questione di struttura in un primo momento mi fece paura tutte le volte che si voltava mi mettevo a correre perché pensavo che mi avrebbe inseguita poi poco alla volta mi resi conto che stava semplicemente cercando di far perdere le proprie tracce così da quel momento non ebbi più timore e lo pedinai per parecchie ore standogli alle spalle alla distanza di circa dieci metri e questo fatto lo rendeva nervoso infelice alla fine la cosa lo preoccupò parecchio così si arrampicò su un albero per un po' rimasi ad aspettare poi si rinunciai e tornai a casa oggi si è ripetuta la stessa storia ancora una volta non sono riuscita a farlo finire sull'albero domenica è ancora lì si direbbe che stia riposando ma è un trucco la domenica non è il giorno giusto è il sabato il giorno destinato al riposo dovesse riposare così a lungo io mi stancherai moltissimo solo a starmene seduta a guardare un albero mi stanco non riesco a capire a che cosa possa servire quell'essere non una volta che sia riuscita a vederlo fare qualcosa una cosa qualsiasi ieri sera hanno restituito la luna ne ho provato una felicità immensa penso che si siano comportati molto onestamente poi è riscivolata verso il basso e ancora una volta è caduta fuori ma non ho provato tristezza quando si hanno dei vicini non c'è di che preoccuparsi la riporteranno dov'era vorrei tanto fare qualcosa che provasse la mia gratitudine vorrei fare avere loro delle stelle perché noi qui ne possediamo fin troppe voglio dire io non noi perché mi sembra di capire che al rettile le cose del genere proprio non interessino a gusti volgari e non è neppure gentile ieri sera nell'ora del crepuscolo quando andai a vederlo era strisciato verso il basso e stava cercando di acchiappare i pesciolini screziati che giocano nello stagno e fu costretto a tiragli addosso delle zolle di terra per far sì che li lasciasse in pace e se ne tornasse sull'albero mi domando se è a questo che è quel d'essere serve dunque non ha un cuore non sente nessuna pietà per quelle minuscole creature è possibile che sia stato progettato e costruito perché compisse gesti così poco carini ha proprio l'aria una delle zolle lo colpì dietro l'orecchio e il rettile usò la parola la cosa mi diede un'eccitazione intensa perché era la prima volta che in vita mia sentivo la parola venire da un essere che non fossi io non lo capì ma le sue mi sembrarono parole molto eloquenti coperto che il rettile sapeva parlare cominciai a provare interessi nei suoi confronti perché io adoro parlare parlo tutto il giorno parlo anche nel sonno e dico cose molto interessanti ma se solo avessi qualcuno con cui parlare dirai cose ancora più interessanti e non smetterai mai se solo qualcuno lo volesse se questo rettile è un uomo allora non è una cosa vero? una cosa o esso non sarebbero corretti dal punto di vista grammaticale vero? dovrebbe essere un egli? sì penso sia così quindi se così fosse è nel modo seguente che l'analisi grammaticale dovrebbe svolgersi nominativo egli dativo lui possessivo suo benissimo fino a prova contraria lo considererò un uomo e mi riferirò a lui usando il pronome egli fino al momento in cui egli risulterà essere qualcosa di diverso sarà più comodo così piuttosto che avere tante incertezze la domenica della settimana seguente per tutta la settimana non ho fatto che stargli dietro per cercare di fare amicizia visto che era timido è toccato a me occuparmi delle chiacchiere ma lui non se ne è risentito sembrava che gli desse piacere che io fossi lì ho usato moltissimo il noi tanto socializzante dal momento che l'essere incluso pareva lusingarlo mercoledì ora quando siamo insieme ci troviamo proprio bene e ogni giorno che passa ci conosciamo un po' di più non tenta più di evitarmi buon segno mi lascia anche capire che gli piace avermi con sé questo fatto a me dà piacere e io mi do un grande affare per essergli il più utile possibile così che la sua stima cresca ultimamente mi sono completamente accollata il compito di dare un nome alle cose e il mio gesto l'ha molto sollevato perché non è troppo dotato sotto questo aspetto e di questo mi è in maniera evidente grato non è in grado di farsi venire in mente un solo nome razionale che lo riscatti ai miei occhi ma io faccio in modo che non si accorga che so di questo suo difetto così ogni volta che mi appare una nuova creatura io le do il nome prima ancora che il suo goffo silenzio ne tradisca l'imbarazzo così facendo in diverse occasioni gli ho risparmiato attimi di difficoltà io questo difetto non ce l'ho nel momento stesso in cui il mio sguardo si posa su un animale so di che animale si tratta non ho bisogno di rifletterci su neppure un attimo subito mi viene la parola esatta proprio come per ispirazione e non c'è dubbio che sia così perché ho la certezza che un secondo prima quella parola non era dentro di me si direbbe che per sapere di che animale si tratti la forma di quell'animale e il modo in cui si muove mi siano sufficienti quando per la prima volta fece la sua comparsa il dodo lui pensò che si trattasse di una linse glielo lessi negli occhi ma gli venne in aiuto e fui molto attenta nel farlo in modo che il suo orgoglio non ne fosse ferito con gran semplicità e come se fossi piacevolmente sorpresa cominciai a parlare e senza nemmeno avere l'aria di chi gli stesse fornendo un'importante informazione gli dissi guarda sembra impossibile ma quello è un dodo e senza sapere per niente l'aria di farlo gli spiegai come era riuscita a capire che era di un dodo che si trattava fu chiaro che era pieno di ammirazione anche se mi venne il sospetto che si fosse un po' risentito del fatto che io ne conoscessi il nome e lui no che mi ammirasse mi diede molto piacere e prima di addormentarmi quel pensiero mi ritornò alla mente più di una volta riempiendomi di gioia è sufficiente così poco per farci felici quando sentiamo di esserci guadagnata la felicità giovedì il mio primo dolore ieri mi ha evitata mi ha anche dato la sensazione che non volesse sentirmi parlare non riuscivo a crederci pensai che ci fosse qualcosa di sbagliato perché a me piaceva tantissimo stare con lui e ascoltarlo parlare e allora com'era possibile che fosse scortese con me che non gli avevo fatto niente ma alla fine sembrò che fosse proprio così e allora mi allontanai e andai a sedermi tutta sola nel posto in cui lo vidi per la prima volta la mattina in cui fummo creati quando non sapevo che cosa fosse e mi era del tutto indifferente ora però quel posto era un posto di tristezza ogni più piccola cosa parlava di lui e avevo il cuore a pezzi non riuscii a capire con chiarezza perché fosse così quella che sentivo infatti era una sensazione nuova mai provata prima di allora completamente misteriosa e non riuscivo a spiegarmela ma quando venne la notte non ce la fece a sopportare la solitudine e andai al rifugio che aveva costruito per chiedergli cosa avevo fatto che non andava per sapere come avrei potuto porvi rimedio così da riguadagnarmi la sua dolcezza ma lui mi cacciò fuori sotto la pioggia e quello fu il mio primo dolore domenica adesso è tornato sereno e sono felice ma ho passato giorni molto tristi quando mi riesce cerco di non pensarci ho cercato di tirare giù dall'albero qualcuna di quelle mele per lui ma non mi riesce di imparare a tirare come si deve non ce l'ho fatta ma penso che le mie buone intenzioni gli abbiano dato piacere sono mele proibite dice che mi metterò nei guai ma perché preoccuparmene se è per compiacere lui che vado a finire nei guai lunedì stamattina gli ho detto come mi chiamo speravo che gli interessasse non gliene ha importato nulla strano se mi dicesse il suo nome a me importerebbe credo risuonerebbe al mio orecchio più dolce di qualsiasi altro suono parla pochissimo forse perché non è intelligente e gli dispiace e cerca di nasconderlo è un gran peccato che faccia così perché cos'è mai l'intelligenza è nel cuore che si raccolgono i valori come vorrei fargli capire che un cuore sensibile e generoso conta molto molto di più e senza quel cuore l'intelletto è ben miseracosa anche se parla pochissimo ha un vocabolario notevole stamattina ha usato una parola che mi ha sorpreso per la sua bellezza ovviamente si è reso conto lui stesso del fatto che si trattasse proprio di una bella parola perché subito dopo l'era inserita ben due volte come per caso anche se il trucco non gli è riuscito troppo bene è stata la dimostrazione che è dotato di una discreta percezione seme che se verrà coltivato come si deve darà senza dubbio buoni frutti ma dove è andato a trovare quella parola penso di non averla mai usata no il mio nome non ha provocato in lui il benché minimo interesse ho cercato di nascondere la mia delusione ma penso di non esserci riuscita mi sono allontanata e sono andata a sedermi sulla riva muschiosa con i piedi nell'acqua è lì che vado quando sento il bisogno di compagnia di qualcuno da guardare di qualcuno con cui chiacchierare non è che mi basti quel corpo bianco grazioso dipinto nello stagno e tuttavia è pur sempre qualcosa e qualcosa è meglio della solitudine totale parla quando parlo io quando sono triste è triste mi rincuora con la sua simpatia dice non essere depressa povera piccola priva di amici sarò io la tua amica e lo è davvero una buona amica l'unica che ho è mia sorella e la prima volta che mi abbandonò ah non lo dimenticherò mai mai e poi mai il cuore mi pesava dentro come piombo dissi era tutto ciò che avevo e ora se n'è andata al colmo della disperazione aggiunsi spezzati cuore mio non sopporto più di vivere e nascosi il viso tra le mani e niente riuscì a sollevarmi poi scostai le mani e diri a poco eccola là ancora una volta bianca luminosa bella mi buttai fra le sue brazza fu un momento di felicità completa avevo conosciuto la felicità prima di allora ma mai in un modo così intenso fu un momento di estasi da allora in poi le diedi la mia totale fiducia a volte se ne stava lontana forse un'ora forse un'intera giornata ma io l'aspettavo e non avevo nessun dubbio e mi dicevo è impegnata oppure è partita per un lungo viaggio ma tornerà e davvero ritornò puntualmente la notte se era buio non veniva perché era un piccolo essere timido ma quando splendeva la luna sì io non ho paura del buio ma lei è più giovane di me è nata dopo sono stata da lei più e più volte per me è il rifugio in cui trovo conforto nei momenti difficili che sono sempre più frequenti martedì ho lavorato tutta la mattina per apportare miglioramenti alla mia proprietà mi sono stata lontana di proposito perché speravo che così si sentisse solo e venisse da me inutilmente a mezzogiorno ho finito la mia giornata di lavoro e per svagarmi mi sono messa a giocarellare con le api e le farfalle mi sono data la pazza gioia tra i fiori quelle creature stupende che rubano al cielo il sorriso di Dio e lo conservano dentro di sé li ho raccolti e ne ho intrecciato ghirlande con le quali ho rivestito il mio corpo mentre consumavo il pranzo mele naturalmente poi mi sono seduta nell'ombra ad aspettarlo piena di desiderio ma non è venuto ma ha poca importanza non sarebbe successo assolutamente niente perché i fiori non lo interessano li chiama rovaccia non li distingue l'uno dall'altro e pensa che sia segno di superiorità pensarla come la pensa lui non lo interesso io non lo interessano ai fiori non lo interessa il cielo ornato di stelle la sera ma esiste qualcosa che lo interessi oltre ai tuguri che si costruisce per rintanarvi si dentro così da proteggersi dalla buona pioggia che cade pulita all'infuori dei meloni su cui picchia per vedere se sono maturi all'infuori dell'uva che controlla grappolo per grappolo all'infuori della frutta d'albero che lui palpeggia per vedere come vanno i suoi possedimenti ho messo un ramoscello secco sulla terra e ho cercato di farci dentro un buco usandone un altro volevo realizzare il mio piccolo piano ma immediatamente mi sono preso uno spavento terribile dal buco si è alzata una pellicola bluastra trasparente e sottile ho lasciato cadere tutto e sono scappata ho pensato fosse uno spirito e mi sono preso una paura poi mi sono guardata alle spalle e lo spirito non mi seguiva allora mi sono appoggiata a una roccia per riposarmi della corsa ansimavo e mi tremavano le gambe ho aspettato che le gambe e le brazza smettessero di tremarmi e ridiventassero salde poi muovendomi cautamente sono lentamente tornata carponi verso il punto da cui ero fuggita mi guardavo intorno con circospezione pronta a scappare se fosse stato il caso e quando sono stata di nuovo vicina ho spiato da dentro un cespuglio di rose dopo averne separato i rami speravo che l'uomo fosse nei paraggi perché aveva un'aria deliziosamente astuta e graziosa ma lo spirito era scomparso mi sono avvicinata ed ecco che nel buco si raccoglieva un briciolo di polvere finissima e rosa ci ho messo dentro il dito perché volevo sentirne la consistenza e ho gridato ah poi l'ho tirato fuori è stato un dolore lacerante mi sono messa il dito in bocca dopo la gemmichi e i saltelli prima su un piede poi sull'altro sono riuscita in un attimo ad alleviare la sofferenza allora ho provato una grande curiosità e ho cominciato ad esaminare il tutto mi incuriosiva sapere cosa fosse la polvere rosa all'improvviso me ne è venuto in mente il nome anche se non l'avevo mai sentito prima di allora era fuoco ne ero certa più di qualsiasi altra cosa al mondo per questo senza esitare gli dia di quel nome fuoco avevo creato qualcosa che prima non esisteva e le ricchezze immense del mondo avevo aggiunto qualcosa di nuovo per rendermene conto ho sentito orgoglio per l'impresa compiuta e sono stato sul punto di mettermi a correre per cercarlo per raccontarglielo nella speranza di salire sulla sua stima ma ci ho pensato su e non l'ho fatto no non l'avrebbe interessato mi avrebbe chiesto a cosa mai potesse servire e come avrei potuto rispondergli infatti se non fosse servito a nulla e fosse stato bello semplicemente bello così ho sospirato e non ci sono andata perché il mio fuoco non serviva a niente non serviva a costruire una capanna non serviva a migliorare la qualità dei meloni non serviva ad accelerare il raccolto non aveva nessuna utilità era una sciocchezza così vana e glielo avrebbe disprezzato avrebbe detto parole dure ma ai miei occhi quel fuoco non andava disprezzato ho detto fuoco io ti amo tu deliziosa creatura rosa sei bella e questo è quanto basta e stavo per stringerlo al seno ma non l'ho fatto poi ne ho ricavato un'altra massima tutta di testa mia che però era così simile alla prima da far sospettare che ne fosse un plagio dopo che il fuoco l'ha scottato l'esperimento lo teme di nuovo ci ho lavorato e dopo essere riuscita a produrre una quantità discreta di polvere da fuoco l'ho raccolta dentro una manciata di erba secca marrone volevo portarla a casa tenerla sempre con me e giocarci ma il vento ci ha soffiato sopra con forza la polvere si è sparsa ovunque intorno e mi ha colpita con violenza e io l'ho lasciata cadere e mi sono messa a correre quando mi sono girata indietro lo spirito azzurro era lassù in alto come una nuvola si allontanava disfacendosi e poi ricomponendosi in volute rotonde subito pensai a un nome fumo anche se lo giuro non avevo mai sentito la parola fumo prima di allora in breve faville luminose di colore giallo-rosso si alzarono tra il fumo e in un attimo dia di loro un nome fiamme e come se non bastasse il nome era quello giusto anche se quelle che avevo davanti erano di certo le prime fiamme del mondo salirono sugli alberi e nel loro splendore facevano di tanto in tanto capolino tra le ampie volute del fumo nella cui massa che andava estendendosi e riversandosi quelle fiamme di quando in quando scomparivano l'entusiasmo e la gioia che ne provai furono tali che non riuscì a fare a meno di battere le mani ridere, ballare era tutto così nuovo e strano così stupendo e bello lui arrivò di corsa si fermò con gli occhi spalancati per molti minuti restò senza parole poi mi chiese che cosa fosse fu un peccato che me lo chiedesse con una domanda così esplicita perché naturalmente dovetti rispondergli e lo feci gli dissi che si trattava del fuoco che gli desse fastidio al fatto che lo sapessi e che fosse costretto a chiedermelo non è colpa mia non avevo nessuna intenzione di innervosirlo dopo un momento di silenzio mi chiese e come è successo ancora una domanda esplicita cui bisognava dare una risposta esplicita l'ho fatto io il fuoco si stava allontanando sempre di più egli si diresse al limite della zona bruciata e guardò a terra a lungo poi disse e questi che cosa sono carboni ne raccolse uno per guardarlo da vicino ma cambiò idea e lo rimise per terra poi se ne andò niente lo interessa ma tutto interessava a me c'era la cenere grigia morbida delicata graziosa la riconobbi subito e la brasse riconobbi anche quella trovai le mele e ne raccolsi una gran quantità la cosa mi diede piacere perché sono molto giovane e ho un buon appetito ma ne fui delusa erano scoppiate tutte ed erano rovinate così sembrava ma non era vero erano migliori di quelle crude il fuoco è bello penso anche che un giorno o l'altro avrà una sua utilità venerdì l'ho visto di nuovo per un attimo non è discorso quando è scesa la notte ma solo per un attimo speravo che lo dasse i tentativi che ho fatto per migliorare la proprietà ci tenevo e mi ero data un gran da fare ma non ne fu felice si girò e se ne andò c'era anche un altro fatto che lo disturbava ancora una volta avevo cercato di convincerlo a non ritornare alle cascate l'avevo fatto perché il fuoco mi aveva svelato una nuova passione molto nuova e completamente diversa dall'amore dal dolore e dalle altre passioni che avevo già scoperto era la paura ed è terribile come vorrei non averla mai scoperta mi dà momenti di grande tristezza mi ravina gli istanti felici mi farà brividire e tremare ma non mi riuscì di convincerlo perché non ha ancora scoperto la paura e fu per questo che non gli fu possibile capirmi dal diario di Adamo forse non dovrai dimenticare che è giovanissima nient'altro che una bambina ed essere più indulgente tutto la incuriosisce la infiamma Eva è fuoco vivo per lei il mondo è un oggetto affascinante pieno di meraviglie misteri gioie quando trova un fiore che non ha mai visto il piacere che prova la lascia senza parole sente il bisogno di coccolarlo di accarezzarlo di annusarlo di parlarti e di ricoprirlo di nomi affettuosi va pazza per i colori le rocce marroni la sabbia gialla le rive muscose grigie le foglie verdi il cielo azzurro il color perla dell'alba le ombre viola sulle montagne le isole d'oro al tramonto che galleggiano su mari cremisi da palli da luna che veleggia tra brandelli di nuvole i gioielli stellati che brillano nelle vastità dello spazio niente di tutto questo per quanto mi riesce di capire possiede un pur minimo valore pratico ma poiché è colorato è un aspetto maestoso questo le basta e lei ci perde il bene dell'intelletto e soltanto riuscisse a calmarsi a stare ferma almeno due minuti di seguito sarebbe uno spettacolo riposante se così fosse penso che mi piacerebbe starla a guardare anzi sono sicuro che sarebbe così perché credo di essere sul punto di convincermi che è una creatura piuttosto bella snella sottile ben fatta dalle linee precise e rotonde agile graziosa una volta stava in piedi su una roccia la figura bianca come di marmo inondata di sole la testa piegata all'indietro e la mano che le faceva schermo agli occhi stava seguendo il volo di un uccello nel cielo e in quell'occasione dovete ammettere che era bella lunedì mezzogiorno se esiste una cosa sulla faccia della terra per la quale lei non nutre interesse sono le cose che piacciono a me ci sono animali ai quali io personalmente mi sento indifferente ma ai quali non è indifferente lei non è in grado di fare discriminazioni le piacciono tutti pensa che siano dei tesori uno per uno ogni nuovo arrivato è il benvenuto chiunque per la prima volta faccia la sua comparsa tra di noi è il benvenuto quando il brontosauro possente fece a grandi passi irruzione nella nostra vita lei lo considerò un acquisto io una calamità e questo mi sembra un bel esempio dell'assenza di armonia che pervade le nostre reciproche visioni del mondo voleva addomesticarlo io volevo fargli omaggio della casa e traslocare lei pensava che trattandolo bene lo si sarebbe potuto rendere docile e sarebbe stato un perfetto cucciolotto di casa io le dissi che un cucciolo alto 6 metri e lungo 25 non sarebbe stato l'animale ideale da avere intorno perché anche se con le intenzioni migliori e senza assolutamente voler far male a nessuno il cucciolotto avrebbe potuto sedersi sopra la casa e schiacciarla infatti chiunque solo a guardarlo negli occhi sarebbe stato in grado di capire che era un animale distratto nonostante tutto Eva si era messa in testa di tenere quel mostro e non c'era modo di farle cambiare idea pensava che con il brontosauro avremmo potuto aprire una latteria e voleva che l'aiutassi a mungerlo ma io non volevo era troppo rischioso a parte il fatto che il sesso non era quello giusto e che non avevamo neppure una scala poi le venne voglia di salirgli in groppa per ammirare il panorama come se fosse un albero abbattuto la coda del brontosauro si allungava sul terreno per 10 15 metri così a Eva venne in mente che avrebbe potuto arrampicarvi ci si sopra ma si sbagliava quando raggiunse il punto più ripido scoprì che era troppo scivoloso e precipitò e si sarebbe fatta male se non ci fossi stato io e adesso ne era convinta no non c'è niente che la convinca se non la dimostrazione le teorie non sperimentate non fanno per lei e non ne vuole sapere è l'atteggiamento giusto lo ammetto mi attrae e mi affascina se stessi più a lungo con lei penso che adotterei quell'atteggiamento anch'io bene sul colosso di cui parlavo Eva aveva un'ultima teoria pensava che se fossimo riusciti a domarlo e a farcelo amico avremmo potuto sistemarlo sul fiume e usarlo come se fosse un ponte scoprimmo che era già più che addomesticato almeno per quanto lo riguardava così Eva sperimentò la teoria che aveva formulato ma la teoria risultò sbagliata tutte le volte che riusciva a metterlo nel punto giusto del fiume e ritornava a riva per potersi servire di lui per passare dall'altra parte il brontosauro usciva dall'acqua e la seguiva come se fosse stato un cucciolo gigantesco come d'altronde tutti gli altri animali lo fanno tutti con Eva martedì mercoledì giovedì e oggi tutti passati senza vederlo non finiscono mai se li si vede passare da soli eppure è meglio la solitudine piuttosto che non essere ben accetti venerdì devo assolutamente trovare compagnia fa parte della mia natura penso così ho fatto amicizia con gli animali sono proprio deliziosi e poi hanno un'indole dolcissima e modi di fare molto educati non tengono mai il broncio non ti fanno mai sentire di troppo ti sorridono e agitano felici la coda se ne hanno una sono sempre disposti a giocare rotolandosi per terra a fare delle gite oppure a seguirti qualsiasi cosa tu proponga loro mi considero dei veri gentiluomini per tutto questo periodo ci siamo divertiti tantissimo e io non ho mai sentito la solitudine mai io sola no non si direbbe proprio no sempre a nuvoli intorno a volte coprivano fino a 4 o 5 acri non li si può nemmeno contare e quando ci si alza in piedi su una roccia in mezzo a loro e si rivolge lo sguardo tutto intorno su quella morbida distesa di pellizza i colori vivace la luce il riflesso del sole la fanno sembrare così chiazzata e schizzata di allegri riflessi così increspata in superficie dalle strisce del pelo che ti viene da pensare che si tratti di un lago solo che sai che non lo è è una pioggia di uccelli socevoli e un vorticare violento di ali e quando il sole si posa su quelle superfici di ali in continuo movimento ne scaturisce un incendio di colori inimmaginabile quasi da accecarti completamente abbiamo fatto gite lunghissime sono stata nei più sbagliati posti credo di aver visto il mondo intero quasi quindi sono la prima viaggiatrice e anche l'unica quando siamo in cammino la vista è stupenda non c'è niente al mondo di così bello per starvene più comoda salgo in groppa una tigre oppure un leopardo sono morbidi e hanno le schiene tornite che si adattano al mio corpo e poi sono animali così carini per viaggi più lunghi o per ammirare meglio il panorama uso l'elefante quando ci devo salire lui mi solleva con la proboscide ma riesco a scendere da sola quando stiamo per fermarsi si siede e io gli scivolo lungo la schiena gli uccelli e gli animali vanno molto d'accordo non si azzuffano su niente parlano tutti e parlano anche a me ma deve essere la lingua di un altro paese perché io non riesco a capire una sola parola di quello che dicono nonostante questo spesso quando rispondo loro mi capiscono soprattutto il cane e l'elefante io ne ho vergogna è la dimostrazione infatti che sono più intelligenti di me quindi mi sono superiori mi dà fastidio perché voglio essere io l'esperimento più importante e come non bastasse ho tutte le intenzioni di esserlo ho imparato un certo numero di cose e ora sono una persona che si è fatta una cultura ma all'inizio non era così all'inizio era una persona ignorante all'inizio l'esserlo mi dava molto fastidio perché a forza di guardare guardare non avevo mai la prontezza di essere lì nel momento in cui l'acqua scorreva verso l'alto ma ora non mi importa ho fatto esperimenti su esperimenti e ormai so che l'acqua non scorre mai verso l'alto se non quando è buio so che questo accade quando è buio perché lo stagno non si prosciuga mai naturalmente succederebbe così se l'acqua non ritornasse nella notte la cosa migliore è dimostrare ciò che si vuole dimostrare con l'esperimento vero e proprio è solo così che veramente si capisce mentre se si è condizionati da teorie congetture ipotesi non si arriverà mai ad avere una cultura ci sono cose che è impossibile scoprire ma è impossibile scoprirlo fondandosi su teorie e congetture no si deve avere pazienza si deve continuare a provare fino a scoprire che è impossibile scoprire ed è bellissimo che sia così in questo modo il mondo è così affascinante se non ci fosse niente da scoprire sarebbe noioso anche cercare di scoprire e non scoprire è interessante allo stesso modo che cercare di scoprire e scoprire non c'è niente di cui io sia più sicura il segreto dell'acqua fu un tesoro prezioso fino al giorno in cui non lo capii in quel momento la mia eccitazione si spense e debbi la sensazione di una perdita e attraverso l'esperimento che so che il legno galleggia come anche le foglie secche le penne degli uccelli e molte altre cose quindi grazie a queste prove tutte insieme capisci che anche la roccia galleggia ma si deve accettare il fatto che questa è una semplice conoscenza teorica perché almeno fino ad oggi non c'è stato modo di dimostrarlo ma si deve accettare il fatto che questa è una semplice conoscenza teorica perché almeno fino ad oggi non c'è stato modo di dimostrarlo ma io ne scoprirò uno e a quel punto l'eccitazione si spegnerà cose come queste mi rattristano infatti con il passare del tempo quando avrò scoperto tutto non ci sarà più eccitazione e io vado pazza per l'eccitazione la notte passata solo a pensarci non riuscivo a dormire all'inizio non capivo a che cosa ero destinata quando fui creata ma ora penso di essere stata creata per cercare i segreti di questo mondo meraviglioso per essere felice e per ringraziare il creatore per averlo inventato credo ci siano ancora molte cose da imparare me lo auguro e credo anche che quelle cose dureranno ancora settimane e settimane se io sarò moderata nel farlo e se non mi ci butterò dentro a capofitto così almeno spero quando uno butta in aria una penna di uccello la penna svolazza nell'aria si allontana e poi sparisce dalla nostra vista poi butti una zolla e la zolla non sparisce tutte le volte ritorna a terra ci ho provato e riprovato ed è così sempre ma perché le cose vanno così naturalmente non è che la zolla ritorni ma perché sembra che così accada la mia teoria è che sia un'illusione ottica voglio dire una delle due lo è non so quale delle due lo sia potrebbe esserlo per la penna potrebbe esserlo per la zolla non so dimostrare quale delle due lo sia posso solo provare che una delle due è un trucco e la serie ad altri la decisione solo a guardarle so che le stelle non sono destinate a durare nel tempo ne ho viste alcune tra le più belle sciogliersi e affondare nel cielo e se può sciogliersene una possono sciogliersi tutte e se tutte possono sciogliersi è anche possibile che si scioggano tutte la stessa notte arriverà anche quel dispiacere ne sono certa voglio stare in piedi tutte le notti e guardarle fino a quando riuscirò a stare sveglia mi imprimerò nelle memorie quei campi scintillanti così da riuscire a ricreare nell'immaginazione le miriadi deliziose di stelle e restituirle al cielo buio e farle tornare a brillare di nuovo voglio raddoppiarne il numero attraverso il velo incerto delle lacrime che piangerò man mano che quelle stelle mi saranno sottratte dopo la caduta e ci ripenso il paradiso terrestre mi sembra un sogno era bello più che bello era un incanto e ora l'ho perso e non lo ripetrò più ho perso il paradiso terrestre ma ho trovato lui e ne sono felice mi ama con tutte le sue forze io lo amo con tutta l'intensità della mia natura appassionata e questa credo è una caratteristica della mia giovanità e del mio sesso se mi domando perché lo amo scopro di non saperlo e non mi importa un granché per questo credo che il mio genere di amore non sia il prodotto di ragionamenti e statistiche come l'amore che uno prova per i rettili e gli animali penso che sia proprio così tanti uccelli li amo per il loro canto ma ad amo non lo amo per come canta no proprio no anzi più canta e meno riesco ad accettare che lo faccia e tuttavia gli chiedo di farlo perché vorrei imparare ad amare tutto quello che lo interessa sono sicura che ce la farò perché all'inizio non potevo sopportarlo ma adesso sì fa venire la pelle d'oca ma non importa posso benissimo abituarmici non è per la sua intelligenza che lo amo no proprio no non è colpa sua se ha l'intelligenza che si ritrova è stato Dio a fargliela non lui ad amo è come Dio l'ha fatto e questo è quanto basta aveva i suoi buoni motivi di questo sono sicura con il passare del tempo la sua intelligenza si svilupperà anche se non tutta ad un botto credo e d'altronde non c'è fretta va bene così com'è non è per le sue maniere gentili attente o per la sua delicatezza che lo amo no sotto questo punto di vista ha grandi carenze ma va bene così e poi sta facendo dei miglioramenti non è per la sua applicazione costante al lavoro che lo amo no proprio no credo che lui sia fatto così e non capisco perché me lo voglia nascondere è questo il mio unico rammarico per il resto ora è schietto ed aperto sono sicura che oltre a quello non mi tiene nessun altro segreto mi fa male che abbia un segreto tutto suo a volte per questo non riesco a dormire solo a pensarci ma riuscirò a non pensarci più quel segreto non riuscirà a sciupare la mia felicità che d'altronde è così grande che quasi trabocca non è per la cultura che ha che lo amo no proprio no è un'autodidatta e ad essere sinceri sa un'infinità di cose che però non sono vere non è per la sua galanteria che lo amo no proprio no mi ha fatto la spia ma io non gliene voglio penso che sia una caratteristica del suo sesso credo e non è stato lui a creare il suo sesso naturalmente io non l'avrei mai fatto piuttosto sarei morta ma anche questa è una caratteristica del sesso e non posso vantarmene visto che non sono stata io a creare il mio sesso e allora qual è il motivo per cui lo amo semplicemente perché è un maschio credo sotto sotto è un essere buono e per questo lo amo ma lo amerei anche se non lo fosse se mi picchiasse se mi maltrattasse io continuerei ad amarlo lo so è questione di sesso credo è forte è bello e per questo lo amo e lo ammiro e ne sono fiera ma riuscirei ad amarlo anche se queste qualità gli mancassero se fosse un uomo senza qualità lo amerai lo stesso se fosse pezzi lo amerai lo stesso mi ammazzerei di lavoro per lui mi farai in quattro per aiutarlo e pregherai e starai al suo capezzale a vegliarlo fino alla morte sì penso di amarlo per la semplice ragione che mi appartiene e che è maschio non esiste un'altra mi sembra per questo quindi penso che sia vero quello che ho detto fin dall'inizio che non sono stati né i ragionamenti né le statistiche a dare vita a questa forma di amore semplicemente succede nessuno è in grado di sapere come e non lo si riesce a spiegare non ce n'è bisogno è così che la penso ma non sono altro che una giovane donna e sono stata la prima a occuparmi del problema ed è possibile che dato che non ne so molto e non ne ho una grande esperienza non abbia capito come stanno le cose per davvero quarant'anni dopo è mia preghiera e desiderio che le nostre vite finiscano insieme desiderio che non sparirà mai dalla faccia della terra e che fino alla fine dei tempi vivrà nel cuore di ogni sposa innamorata quel desiderio avrà il mio nome ma se la vita di uno di noi dovrà per prima arrivare alla sua fine è mia preghiera che quella vita sia la mia perché lui è forte mentre io sono debole perché io non gli sono indispensabile tanto quanto lui lo è a me la vita senza di lui non sarebbe vita come farai a sopportarla anche questa mia preghiera è immortale e fino a quando che la mia razza si perpetuerà non smetterà di essere pronunciata io sono la prima sposa che sia mai esistita e mi reincarnerò in tutte le spose che verranno fino all'ultima alla tomba di Eva Adamo ovunque lei sia stata quello era l'Eden che era che erano che erano che erano che erano Grazie a tutti